Sbloccate e avviate il veicolo. Accendete le luci di segnalazione pericolo e verificate che il freno a mano sia correttamente tirato. Aprite lo sportello del bagagliaio e sollevate il tappetino. Recuperate il compressore e la bomboletta. Posizionate il compressore e la bomboletta davanti alla ruota forata, quindi svolgete i cavi. Collegate il tubo del compressore all'ingresso della bomboletta. A seconda del veicolo, collegate o avvitate la bomboletta al compressore. Collegate il tubo sulla valvola. Collegate quindi il cavo elettrico alla presa accessori. Controllate la pressione di gonfiaggio indicata sulla porta. Avviate il compressore. Dopo 15 minuti al massimo, spegnete il compressore. La pressione deve essere superiore a 1,8 bar, altrimenti rivolgetevi alla rete Renault. Regolate la pressione se necessario. Aumentate la pressione continuando a gonfiare oppure diminuitela. Premendo la valvola integrata al compressore, scollegate il cavo elettrico. Svitate lentamente l'inserto di gonfiaggio, in modo da evitare eventuali schizzi di prodotto. Incollate l'etichetta fornita su un punto visibile del cruscotto. Togliete la bomboletta e riponetela in un imballaggio in plastica. Riponete gli elementi del kit di gonfiaggio nel bagagliaio. Guidate a una velocità compresa tra 20 e 60 km ora, per distribuire uniformemente il prodotto sul pneumatico. Dopo 3 km di guida, fermatevi per controllare la pressione. Verificate la pressione, che deve essere superiore a 1,8 bar, quindi regolatela al valore consigliato. Riponete il kit e recatevi presso la rete Renault, per sostituire la bomboletta e il tubo, e per fare possibilmente riparare il pneumatico. Attenzione, dopo una riparazione con il kit di gonfiaggio, non bisogna percorrere più di 200 km. Non bisogna inoltre superare gli 80 km ora.